carissimi ragazzi e ragazze in ascolto voi tutti ascoltate un buon consiglio a tutti ben ritrovati sulle frequenze della nostra radio di una nuova puntata di Spazio Giovane che anche oggi come ormai penso che sapete ci occuperemo dedicheremo la puntata ad un nuovo viaggio con il mondo divino della divina volontà in compagnia di Luisa Piccarreta riprendendo la nostra conversazione dove l'abbiamo lasciata il martedì scorso come vi accennavo per comprendere la divina volontà dobbiamo ben guardare come stiamo cercando di fare alla condizione in cui ha vissuto Adamo prima della colpa d'origine la volta scorsa abbiamo concluso appunto leggendo un bellissimo passo che adesso riprenderemo tratto dagli scritti di Luisa che spiega come Adamo oltre ad aver avuto tutte le dotazioni soprannaturali e preternaturali che accompagnavano il suo stato di giustizia originale come lo chiama Santa Madre Chiesa nella sua sapienza aveva però anche il dono della divina volontà cioè aveva ricevuto da Dio appunto in dono la possibilità e la grazia di compiere tutti i suoi atti in piena perfetta e totale unione soprannaturale con lui e con suo volere in modo tale che i suoi atti non fossero stati semplicemente atti umani ma atti completamente divini e dando conferendo questa particolare condizione gratuita che Adamo ricevete da Dio un colore ed una caratteristica del tutto straordinario al suo essere e al suo agire e appunto la volta scorsa abbiamo concluso leggendo un passo che per me fu sconcertante la prima volta che lo senti e che adesso appunto riprendiamo e da qui riprendiamo il nostro discorso che ci narra come grandi e splendidi fossero gli atti compiuti da Adamo prima del peccato originale e riprendiamo appunto da qui la nostra conversazione per andare e compiere con l'aiuto di oggi un ulteriore passo avanti soltanto un istante che devo ritrovare il testo allora un istante che succede regia Maria che succede no 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 sto in linea sto in linea sto in linea no no come non sono in linea ecco e prendiamo c'è stata una piccola interruzione musicale le suore non hanno ben capito ecco io sono totalmente in linea stavo intanto ricercando il testo che ho trovato della scorsa settimana ed è il seguente lo rileggiamo insieme e da qui riprendiamo figlia mia figlia primogenito della mia volontà come figlia di essa voglio svelarti la santità di colui che possede il terreno del mio fiat divino nel principio della creazione questo regno ebbe la sua vita il suo perfetto dominio ed il suo completo trionfo così che esso non è del tutto estraneo in l'umana famiglia e siccome non è estraneo c'è tutta la certezza e speranza che ritorni di nuovo in mezzo a loro per regnare e dominare ora tu devi sapere che Adamo possedeva tale santità quando fu creato da Dio e i suoi atti anche mine avevano tal valore ascoltate bene che nessun santo né prima né dopo la mia venuta sulla terra possono paragonarsi alla sua santità e tutti gli atti di questi non giungono al valore di un solo atto di Adamo perché lui possedeva nella mia volontà divina la pienezza della santità la totalità di tutti i beni divini mi fermo perché poi c'è una seconda parte da commentare e evidenzio una medità sconcertante allora rileggo e commento allora gli atti di Adamo anche minimi attenzione non parla di atti morali parla semplicemente di atti quindi di atti umani quindi non è per noi da escludere con atti di Adamo anche l'atto indifferente di alzarsi e farsi una camminata d'accordo? che è un atto ordinariamente non qualificabile da un punto di vista morale ecco ma è un atto della persona se io mi alzo e cammino ho scritto ho scritto un ebook ho fatto un corso di un ciclo di articoli di Padre Pio di tipo morale che si chiama appunto l'agire dell'uomo dove si analizza proprio cos'è un atto umano quando un atto è riconducibile alla persona e quando ha una valenza morale positiva o negativa un atto che faccio io è un atto mio d'accordo? può essere indifferente può essere buono può essere cattivo perché se è riconoscibile alla mia persona devo farlo io allora Adamo si alza e cammina va a farsi un giro va a un albero di aranci è un'azione è un atto d'accordo? un atto non virtuoso d'accordo? indifferente ma è un atto suo allora qui non parla attenzione degli atti morali di Adamo ma parla di atti anche minimi cioè questo lo dico per enfatizzare ulteriormente la già alquanto sconcertante notizia che ci dà questo scritto 23 scusate 2 ottobre 1927 volume 23 cioè un minimo atto compiuto da Adamo ha un tale valore dice Gesù che nessun santo né prima né dopo la mia venuta sulla terra specifica non si tratta soltanto dei santi dell'antico testamento di San Mosè di Sant'Abramo di San Giovanni Battista capite? no ma anche dopo la sua venuta tutti i santi non uguagliano un atto minimo di Adamo attenzione ma non semplicemente un atto di un santo attenzione e tutti gli atti di questi non giungono al valore di un solo atto di Adamo io non so figlioli miei cari figli miei se come me avete mai avuto la passione io chiaramente ce l'ho avuta specialmente quando eri in seminario quando ce l'ho per grazia un po' più di tempo rispetto ad adesso di vedere di leggere gli scritti dei santi che sono qualcosa di impressionante cioè avete letti avete visto i video dei santi che cosa hanno combinato alcuni ci sono alcuni santi che ti lasciano completamente a bocca aperta perché lo accennavo la volta scorsa io quando lessi un'estate in questo periodo nella mia amata montagna di Santa Veronica Giuliani vi assicuro che passavo le giornate sul traumatizzato andante d'accordo io ero seminarista vedevo le penitenze e le cose che faceva questa donna rimanevo ammirato dico se questa è la santità io non ce la diventerò mai cioè non c'è proprio nessuna speranza d'accordo non ce la farò mai allora tutti i santi messi insieme non giungono a un atto di Adam capite nel trattato della vera devozione non ricordo se ho fatto riferimento a questo nella scorsa puntata c'è scritto a un certo punto perché vi ho detto che le rivelazioni sulla divina volontà diciamo in maniera chiara esplicita le ha avute Luisa ma come ci sono queste cose già nella sagra scrittura d'accordo perché nella sagra scrittura c'è scritto che Adamo prima della caduta godeva di uno stato di perfezione assolutamente inimmaginabile d'accordo anche se poi non è esplicitato chiaramente così come non è esplicitato chiaramente poi lo vedremo lo rivedremo meglio che cosa è stato il peccato originale che ha fatto Adamo io ho già fatto catechesi su questo punto non è esplicitato chiaramente noi l'ipotesi più accreditata si fonda su una serie di affermazioni alcune molte autorevoli fatte fin dai tempi della patristica d'accordo quindi che cosa è stato il peccato originale la chiesa non l'ha mai definito nel magistero d'accordo lo possiamo sapere pur chiaramente non concedendogli il grado di dogma di fede d'accordo di verità di fede definita ma di cosa abbastanza probabile sulla base degli scritti dei santi padri e non solo e anche di qualche rivelazione private qui gli scritti di Luisa non fanno altro che come dire specificare qual era questa condizione cioè specificare ulteriormente aggiungere una chicca insomma che non è una chicca da niente è una chiccona insomma si sarebbe da dire a questa condizione assolutamente straordinaria che godeva d'amo prima della 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 san luigi maria monfort una cosa che non tutti riescano a capire scrive quando nel trattore della vera devozione esorta a darsi completamente alla madonna per un motivo molto semplice verissimo ed è questo che noi esseri umani figli di Adamo per quanto ci sforziamo nell'ambito chiaramente di un percorso di santità ordinaria anche se impegnata al cento per cento per quanto ci sforziamo di compiere cose sante e con le migliori intenzioni non possiamo sfuggire ordinariamente questa dottrina comune in ascetica e spiritualità dal fatto che le nostre azioni siano ordinariamente imperfette cioè frammischiate alle nostre cattive passioni cioè magari faccio un'opera buona però c'è sempre in mezzo un po' da un proprio il desiderio un pochettino in questa opera buona sia notata che qualcuno mi dica bravo o che la faccia per rivalità cioè il panorama è potenzialmente infinito e se noi siamo onesti con noi stessi ne facciamo quotidianamente esperienza San Luigi dice è chiaro che un'opera compiuta in questo modo agli occhi di Dio ha un valore limitato perché oltre che essere un'opera umana è un'opera umana anche compiuta con questo gap con questo handicap d'accordo? non è un'opera perfetta quale è stata dice San Luigi l'unica creatura che era capace di compiere davanti a Dio opere sempre perfette la Divina Maria perché essendo stata concepita senza peccato originale San Luigi ancora non sapeva esplicitamente il dono della Divina Volontà tutti i suoi atti tutte quante le sue azioni erano assolutamente perfette e intrise della pienezza di grazia di cui ella era dotata allora San Luigi cosa dice? se tu vuoi che le tue azioni siano gradite a Dio devi svuotarti completamente di te stesso ecco perché anche la consagrazione totus tus così come la Via della Divina Volontà è una via di santificazione molto interiore perché se tu ti consacri alla Madonna ti metti tutte le catene che ti pare poi non vivi l'attenzione a raggiungere l'unione interiore con la Divina Maria quella consagrazione produce pochi frutti pochissimi se tu ti svuoti se tu ti svuoti di te stesso e in tutte le azioni che fai cerchi l'unione con l'intenzione di Maria e le compi per mezzo di lei e con lei e in lei ti ritroverai che le tue azioni che di per sé stesse sarebbero di poco valore agli occhi di Dio perché oltre che umane appunto inficiate da questa imperfezione sarebbe da dire fisiologica quasi ontologica dal momento che noi siamo figli di Adamo e quindi stato di natura decaduta le unisce all'intenzione di Maria e diventano gli occhi di Dio perfetto e quando dice questa cosa fa questo esempio dice la purezza dell'intenzione della Divina Maria era talmente grande che un punto d'ago dato da lei agli occhi di Dio aveva più valore del martirio sofferto da San Lorenzo che tra poco festeggeremo sulla graticola un punto d'ago capite immaginate prendere un ago in mano e mettere un punto provate a rappresentarvi mentalmente cosa significa morire martiri rosolati su una graticola perché davanti a Dio qui dobbiamo ben focalizzare non conta semplicemente l'azione ma conta l'intenzione in cui ha compiuto l'azione San Luigi non sapeva eppure ha detto questa cosa che le azioni della Madonna nel momento che la Madonna è stata la prima come vedremo e profondiremo dopo Adam e Eva a rivivere nel regno del Fiat Supremo siccome la Madonna aveva una tale purezza di intenzione e tra l'altro era unita in tutto quello che faceva al Fiat Divino non soltanto il martirio di San Lorenzo ma gli atti di tutti i martiri e santi messi insieme non valgono un punto d'ago dato dalla Madonna è la verità questo qui perché perché un'azione è gradita a Dio tanto quanto è pura e santa e il valore di un'azione davanti a Dio è tanto quanto è il soggetto che la compie se la compie un soggetto umano semplicemente umano supponiamo che la Madonna non avesse avuto l'unione con il Fiat Supremo cioè un atto compiuto dalla Divina Maria era comunque un atto fantastico perfetto ma era comunque un atto di una donna la più perfetta donna esistente sul pianeta Terra ma comunque una donna ma siccome la Divina Maria è divina perché era perfettamente unita alla Divina volontà fin dal distante del suo concepimento come vedremo quell'atto che ha una purezza intrinseca infinita ed ha un valore oggettivo infinito perché è compiuto nella Divina volontà e quindi è un atto il cui soggetto di attribuzione non è la Donna Maria ma è la volontà di Dio quindi la volontà di Dio che è propria della Santissima Divinità quindi che è propria della Divinità assume una portata una dimensione impressionante impressionante capite così ci rappresentiamo attenzione che tutto quello che è stato detto a Luisa sulla Divina volontà così cominciamo a fare qualche passettino era finalizzato al fatto che lei prima creatura meramente umana e segnata dalla colpa d'origine dopo Adamo ed Eva e dopo la parentesi però ignota o meglio nota a loro soli di Gesù e Maria la doveva vivere sul pianeta Terra e viverla dopo averla conosciuta dopo averla conosciuta averla esternata attraverso gli scritti che ha lasciato ed averne quindi offerta la conoscenza a chiunque la voglia ricevere Luisa è rivissuta in unione con la Divina volontà veramente quindi vivendo una vita umana ma completamente divina e l'ha vissuto nel più totale nascondimento dell'esistenza che l'ha caratterizzata capite al massimo che dicevano di lei come è noto da dagli scritti la chiamavano i suoi ecocittadini Luisa la Santa d'accordo perché sapevano di questa donna e comunque viveva una vita ritirata intrisa di preghiera e di bontà detto questa casetta dove è stata immobilizzata per tutta quanto una vita lavorando ogni tanto a maglia ricevendo la messa facendo tante preghiere quindi questa era una santa d'accordo ma Luisa non era semplicemente una santa capite era la prima abitatrice veramente umana dopo millenni del regno della Divina Volontà vado avanti perché lui possedeva riprendo l'ultimo versetto nella mia volontà la pienezza della santità la totalità di tutti i beni divini prosegue Gesù e sai tu che significa pienezza significa essere riempito fino all'orlo fino a traboccarne fuori luce santità amore di tutte le qualità divine in modo da poter riempire cielo e terra di cui teneva il dominio e si stendeva il suo regno capite qui dobbiamo fare uno sforzo grosso ecco di immaginazione perché si tratta di realtà grandi perciò ogni suo atto fatto in questa pienezza di beni divini aveva un tal valore che nessun altro per quanto si sacrificasse patisse operasse il bene riprendiamo santa Veronica Giuliani che penso che sapete che qualcuno ne caldeggia anch'io ecco la nomina dottore della chiesa per la dottrina dell'espiazione insomma perché veramente le penitenze che ha fatto questa donna ma anche ciò che Gesù le ha detto sul valore di esse rappresentano un unicum nella storia della chiesa impressionante però Gesù dice nessun altro manco santa Veronica Giuliani per quanto si sacrificasse patisse operasse il bene e non possiede il regno della mia volontà e il suo totale dominio e santa Veronica ahimè non lo possedeva può paragonarsi ad uno solo di questi atti nel regno di essa voi non so se capite che cosa significa significa che se io adesso che sono un poveraccio compio un atto nella divina volontà uno d'accordo un colpo solo faccio un'azione che non è paragonabile a quello di tutti i santi messi insieme c'è scritto così qui è detto così qui e il motivo come già accennavo la volta scorsa è molto semplice perché un atto compiuto nella divina volontà quindi unendosi alla divina volontà fondendosi una delle parole chiavi che impareremo a conoscere durante questo iter di catechesi non è più un atto mio compiuto in grazia e quindi un atto certamente meritorio e santificante ma comunque un atto umano ma è un atto divino è un atto divino partecipa delle proprietà intrinseche della divinità dobbiamo familiarizzarsi con queste cose probabilmente le ho già detto le ripetiamo è ripetite a Yuvan specialmente all'inizio di un percorso un atto divino è un atto che ha un valore numero uno infinito quindi non è come un atto umano circoscritto ha un valore infinito è eterno quindi travalica e trascende i confini del tempo perché l'eternità è andare al di là del tempo è immenso immenso vuol dire che travalica i confini dello spazio perché per l'immensità sapete che Dio immenso significa che Dio è in cielo in terra in ogni luogo è tutto e da per tutto capite continua quindi la gloria e l'amore che mi diede ad amo finché visse nel regno del mio divino volere nessuno attenzione nessuno mi era data ovviamente eccezione fatta di Gesù e di Maria basta e dopo che Luisa già vissuto e quindi che è morta adesso anche Luisa attenzione nessuno nessuno mi era data perché lui negli atti suoi Adamo mi dava pienezza e totalità di tutti i beni e solo nella mia volontà si trovano questi atti fuori di essa non esistono perciò Adamo teneva le sue ricchezze le ricchezze del Dio in volere i suoi atti di valore infinito che le partecipava il mio eterno volere innanzi alla divinità perché Dio nel crearlo nulla di vuoto aveva lasciato in lui ma tutto era pienezza divina per quanto a creatura era possibile di contenere domanda qual è la creatura che ha contenuto della divinità talmente tanto che non è concepibile assolutamente poter andare oltre cioè una creatura umana a causa della sua ontologica finitezza è arrivata talmente tanto da non poterla contenere di più ce n'è una sola d'accordo e come lei non c'è nessuno questa è la divina Maria ma voi sapete che quello che la chiesa sottoscrive voi sapete che la madonna non è soltanto la più santa tra gli esseri umani no noi vediamo la divina Maria regina degli angeli e dei santi dico bene o dico giusto il quinto mistero glorioso no contempliamo Maria Santissima regina degli angeli e dei santi le litanie lauretane dicono regina degli angeli poi regina dei patriarchi dei profeti allora per essere regina degli angeli cioè un re è più grande che un suddito capite se la madonna è la regina degli angeli vuol dire che la sua santità non è soltanto la numero uno fra gli esseri umani ma è la numero uno fra tutti gli enti creati cioè il primo dei serafini ma anche tutti gli angeli messi insieme non hanno una santità e una grazia paragonabile a quella che ha Maria Santissima da sola capite e questo perché perché voi immaginate la divina Maria che viene dimessa nell'istante del concepimento nella stessa condizione che aveva Adam quindi gli viene fatto il dono della divina volontà come vedremo perché dovremo fare un paio di puntate dedicate sicuramente di più a lei lei quando è stata concepita anche questo ci viene dagli scritti e tra l'altro da quegli scritti che era Madonna in persona proprio dettato a Luisa quindi non proprio scritte sotto dettatura proprio esplicita gli ha detto appena sono stato concepita io sono stata immediatamente illuminata sull'unica causa di tutte le rovine dell'uomo l'unica e questo mettiamoci tutti quanti bene in testa spero che ci mettiamo tutti quanti bene in testa c'è soltanto una causa della nostra rovina una è la nostra volontà la nostra non la nostra volontà intesa come volontà che mi appartiene in quanto essere umano perché capite bene che la volontà è una facoltà spirituale quella che insieme all'intelletto ci consente di utilizzare la libertà libero arbitrio è quella che più di ogni altra cosa ha detto di molti padri ci rende simile a Dio cioè io sono simile a Dio perché sono un essere pensante intelligente volente io posso scegliere una cosa rispetto a un'altra questo Dio lo fa in maniera assolutamente perfetta capite ma la libertà è prorogativa divina tutti quanti gli enti creati materiali non hanno questa libertà gli animali non ce l'hanno per quanto belli siano gli animali sono meglio di noi nel senso che obbediscono a Dio ma non hanno merito nel farlo perché loro sono programmati per obbedire a Dio e non possono uscire loro dalla divina volontà capite una rondine mica può dire dice io oggi smetto di cantare la rondine e mi metto a cantare la pentirosso tanto mi metto a studia un po' e ci provo non lo può fare capite non lo può fare una rondine è una rondine vuola da rondine si comporta da rondine campa da rondine punto e basta e in quell'essere così come deve essere quindi così com'è compie lo scopo per cui Dio l'ha creata ma non può fare altro capite noi si io sono essere umano e oggi se ne vedo tutti quanti colori adesso non voglio fare esempi brutti o polemici no ma oggi sapete che la scienza mi dà anche la possibilità perdonatemi non mi piace il mio essere maschietto voglio essere una donna lo si può fare si può fare pensate fino a che punto insomma può arrivare la libertà adesso lasciamo perdere la qualificazione morale che è ovviamente retorica no di questo atto ma con il progresso con le possibili chiamiamolo progresso non lo so insomma quindi con l'acquisizione di nuove tecniche scientifiche che addirittura possa arrivare fino a questo punto cioè esercitare una libertà così grande di scegliere come dire di rinnegare il mio statuto ontologico d'accordo e cambiarlo qual animale può fare una cosa di questo genere nessuno anche molto molto meno no ecco quindi la divina maria preso coscienza di se io mi azzardo a usare male questa libertà quindi a usarla fuori di quello che Dio vuole e perdo la connessione con Dio come ha fatto Adamo sono rovinata io per me e questa rovina ricadrà a Bextra su tutti allora ha detto io il mio volere umano Dio me l'ha dato lo prendo e glielo consegno e faccio voto e promessa davanti a Dio che tutti gli atti che io compirò nessuno sarà di mia sola volontà umana ma saranno tutti compiuti nella volontà divina e per la volontà divina e così è stato cioè noi potremmo chiamare la divina maria potremmo anche chiamarla la volontà di Dio e sempre nello stesso scritto che vi ho citato c'è scritto che la festa dell'assunzione 15 d'agosto potrebbe essere chiamata tranquillamente la festa della divina volontà perché in quel giorno è salito per la prima volta dalla terra al cielo una creatura umana quindi membro della razza umana come noi non come Gesù che certamente era vero uomo come noi ma era uomo unito alla divinità quindi è chiaro che Gesù è evidente che ci aveva la dotazione della divina volontà capite ma un essere puramente umano che è salito al cielo custodendo intatto il dono ricevuto e quindi facendo tutte le cose nella divina volontà senza mai distaccarsene senza mai perdere questo dono non si era mai visto non si era mai visto e però si dovrà rivedere ora si è rivisto in una creatura e nessuno ci assicura per esempio non lo possiamo mica sapere lui si è morto nel 1947 se non ricordo male e dal 1947 a oggi sono passati 70 anni d'accordo gli iscritti certamente hanno cominciato a diffondersi in maniera abbastanza capillare forte diciamo intorno agli ultimi 20 anni e pare che ci sia stato come dire un risveglio diciamo così dell'interessamento forse anche della comprensione di questa dottrina ve l'ho detto in una prima puntata anche io la prima volta che mi parlavano di Luisa Piccarreta mi disse questa cosa fa la volontà di Dio e dico capito cioè che ci vuole di Luisa Piccarreta perché bisogna fare la volontà di Dio sta scritto nel Vangelo che bisogna fare la volontà di Dio non chi dice signore signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli che ci vuole Luisa Piccarreta capite però la comprensione profonda del senso e del surplus e del di più che è l'essere nella volontà di Dio piuttosto che il farla è venuto con lei sarà stato qualcun altro in questi 70 anni che è vissuto nel regno del Fiat Supremo domanda ma non possiamo mica sapere c'è qualcuno in questo momento sul pianeta Terra che sta vivendo veramente perfettamente nel regno del Fiat Supremo non lo possiamo sapere lo possiamo però sperare e lo dobbiamo sperare e il senso di queste catechesi voi sapete che a me per grazie di Dio piace tanto fare le catechesi perché se andare a studiare teologia pastorale la catechesi è una forma di predicazione che è finalizzata a provocare un cambiamento la catechesi non è una conferenza cioè una conferenza è una spiegazione più o meno adotta anche di cose interessantissime bellissime capite non è neanche il catechismo perché il catechismo è un approfondimento dottrinale per questo si chiama catechismo di alcuni aspetti della rivelazione certamente scopo molto molto importante scopo formativo a scopo di arricchimento ma la catechesi è proprio per l'intrinseca funzione una provocazione cioè ti arriva un messaggio e ti provoca che faccio cambio registro c'è che da queste cose che sto sentendo capite è stata la catechesi che ho fatto sui dieci comandamenti è chiaro che la catechesi sui dieci comandamenti sono finalizzate che se qualcuno sta vivendo lontano i dieci comandamenti ne prende coscienza e va a fare la confessione non è che ho fatto dieci comandamenti sufficientemente per fare una dotta di squisizione già bene i comandamenti significano questo e poi chi se ne importa faccio un bel quadretto sbobbino le catechesi e attaccateva il muro non è questo il senso di una catechesi capite ora il senso anche di questo percorso che stiamo facendo è che a qualcuno gli venga voglia di vivere nella divina volontà e lo faccia sul serio cioè non lo faccia come dire vabbè adesso due tre giorni l'entusiasmo e poi accantono no no qui stiamo dinanzi a qualcosa di immenso onde col cadere nel peccato cosa è successo col cadere nel peccato ha successo la fine del mondo cioè Adamo ha perso questo dono e ha perso anche tutti gli altri d'accordo io oggi vorrei leggere un altro paio di scritti che riguardano la condizione di Adamo come era prima del peccato prima di poi passare al disastro di quello che è successo dopo però gli atti divini quindi quelli compiuti prima del peccato originale in quanto divini non possono essere distrutti una dice voi voi sapete che la dottrina della chiesa autentica dice una cosa verissima se tu stai in grazia pecchi mortalmente alla fine perdi la grazia e perdi tutti quanti i meriti acquisiti precedentemente e te ne vai all'inferno se non ti converti se non ti penti scusatemi se sono brusco un po' feriale però questo è il senso attenzione e se io ho fatto un atto divino prima di peccare perdo anche il merito di quello e non è possibile non lo posso perdere perché quello non è un atto mio quello è un atto di Dio quindi quell'atto rimane in certo senso secondo un'espressione sospeso capite non mi può più essere attribuito attualmente perché io mi sono allontanato da Dio ho fatto il peccato originale ho perso il don e ho perso la grazia però quegli atti non sono distrutti non capite un atto umano non può distruggere un atto divino non è possibile capite non si può e qui dice questi atti non furono distrutti queste ricchezze sue questa gloria e amore perfetto che aveva dato il suo creatore non potevano essere distrutti anzi continua è in virtù di essi e del suo operato fatto nel mio fiat divino che meritò la redenzione cioè capite uno dei motivi io penso non l'unico motivo ma uno dei motivi per cui Dio ha concesso la redenzione quindi la possibilità di riparare le conseguenze della colpa è stato il valore di questi atti compiuti prima del peccato originale che davanti a Dio dicevano guarda che belli che sono riporta l'uomo così ed ecco perché la redenzione di cui parleremo approfonditamente è un atto che si dice primo nell'esecuzione ma secondo nelle intenzioni perché il motivo per cui il verbo si è fatto carne e è venuto a soffrire per togliere le conseguenze del peccato dell'uomo non si ferma semplicemente a qui ma è finalizzato a ripristinare ciò che Adamo aveva perduto quindi quello che noi stiamo approfondendo con le rivelazioni della divina volontà è il portare a compimento l'opera della redenzione a pienezza di effetti cioè a Dio non gli basta che ti perdona i peccati d'accordo ti dà la grazia santificante e poi tu devi tribolare per tutta la vita perché dobbiamo tribolare per tutta la vita perché comunque rimangono le tebolezze post peccato originale per santificarti per compiere degli atti anche eroici e raggiungere anche un certo grado di santità umana grazie alla presenza della grazia santificante vuole riportarti in una condizione originale cioè che tu vivi una santità fortentosa strepitosa immensa vuole che la tua vita sia felice anche adesso qui capite certamente non sarà ripristinato il giardino dell'Eden almeno credo lo dico sotto voce così com'era non lo so se il progetto della divina volontà quando questo regno come sembra diventerà universale c'è anche questo non lo so quello che posso dire per certo è che adesso in cui stiamo a quanto dato di comprendere nella fase in cui questo regno entra nelle anime che raccolgono quindi che dinanzi a questo patrimonio degli iscritti di Unisa Piccarreta si apre accoglie approfondisce conosce comprende mette in pratica e vive d'accordo ci entra già da adesso il regno della divina volontà quindi non c'avrà un'anima credo di tal fatta che lo vive ora un Eden capite come quello che aveva ma c'è dentro il cuore però quello sì insieme ad altre cose che poi ne parleremo nelle prossime circostanze che vi lasceranno una bocca spalancata promesse fatte da Dio a chi entra nel regno della divina volontà che quando uno le conosce io quando le ho sentite la prima volta state sempre seduti e tranquilli quando sentite queste robe qui perché se le ascoltate con superficialità d'accordo o tanto perché pensate una cosa del genere pace ma se uno le ascolta e ci crede a queste cose qui veramente gli prende un colpo in senso buono cioè nel senso che impazzisce proprio di gioia capite succederà come è successo a me allora questo è quanto detto non poteva restare senza redenzione che aveva anche per poco vissuto nel regno del Fiat Supremo allora adesso io vorrei fare un passaggio successivo leggervi un paio di scritti che riprendono la condizione di Adamo così come era uscito dalle mani di Dio e comincio dal volume 15 25 aprile del 1923 dove si legge figlia mia ho voluto pregare insieme a te e con te per raffermarti nella mia volontà e darti la grazia di trovarti innanzi alla maestà suprema nell'atto della creazione dell'uomo e siccome lo dotammo di tutti i beni e la sua volontà era la nostra attenzione e la nostra era la sua tutto era armonia tra lui e noi ciò che voleva prendeva da noi prendeva santità sapienza potenza felicità eccetera era il nostro prototipo era il nostro ritratto era il nostro figlio felice sicché Adamo nel principio della sua esistenza ebbe un'epoca che compiva meraviglia lo scopo per cui fu creato provò che significa vivere del volere del suo creatore eravamo felici a vicenda nel vedere riprodurre nella nostra immagine i nostri stessi atti onde come ruppe la sua volontà quella nostra è stata divisa da noi c'è un'altra parte da leggere però qui devo fare un commento capite cioè io vi dico tra i frutti straordinari che io sto apprendendo dalla divina volontà e forse confesso è la prima volta nella mia vita non è che prima non ci fosse ma non con tale chiarezza ormai con tale proprio assoluta convinzione è tu dici scoperto anche qua l'acqua calda la rivelazione dell'amore come unico volto di Dio cioè San Giovanni scrive nelle sue lettere Dio è amore d'accordo? non so se voi conoscete la vita di San Giovanni Apostolo poco prima che morisse era diventato infermo non mi ricordo se anche mezzo cieco è morto molto molto anziano era stato esiliato nell'isola di Patmos a San Giovanni gli andavano a chiedere padre dici una parola lui dice una parola amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi poi andava un altro padre dici una parola amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi e diceva sempre questo e a certo una volta una volta uno gli dice scusi un attimo padre ma abbiamo capito un'altra parola ha detto solo questo Gesù no non ha detto solo questo Gesù ma questo è il suo comandamento questo è lui cioè se uno vi chiedesse ma chi è Gesù? chi è la Madonna? chi è Dio? la risposta è una sola Dio è l'amore punto e basta cioè quello che si vede per esempio nella creazione dell'uomo cioè che cosa fa? cioè Dio l'ha ricolmato di beni di tutti i tipi capite? semplicemente perché quest'uomo fosse cioè impazzisse di gioia di felicità e basta dandogli tutto sentite l'espressione cioè ciò che voleva prendeva da noi cioè io non lo so coloro che mi stanno ascoltando come reagiscono ma io quando leggo queste cose mi prendo un colpo mi prende perché le prendo sul serio ma vi rendete conto? cioè se Dio venisse da me adesso mi dice senti un po' Leonardo allora io sto a tua disposizione tutto quello che vuoi prendilo da me fai tranquillo vuoi santità? prendi santità vuoi sapienza? prendi sapienza vuoi potenza? prendi potenza vuoi felicità? prendila è tutto a tua disposizione tutto quanto in cambio che vuoi? niente che tu mi ami e mi ricambi nient'altro questo sta scritto qui e dice ancora il nostro prototipo il nostro ritratto il nostro figlio felice cioè Dio che gongolava nel vedere la sua creatura felice capite? io vorrei anche dire mezza parola insomma perché guardate quello che sta facendo in giro Papa Francesco cosa porta in giro? cosa porta? porta in giro dovunque si muove l'immagine di Dio amore può piacere o non piacere può stare simpatico o antipatico ma fa questo fa fa questo quando parla della tenerezza di Dio della misericordia di Dio quando tende la mano a tutti d'accordo? mostrando sempre affabilità vicinanza cordialità capite? il motivo per cui ha tanto successo è che tutti siamo sensibili a questo a questo linguaggio perché noi veniamo dall'amore capite? e ci troviamo in una situazione dove l'amore non lo troviamo più non sappiamo neanche vederlo in Dio non sappiamo accoglierlo neanche da Dio e non lo sappiamo dare più a nessuno tutti i peccati che fa l'uomo tutti nessuno escluso tutti quanti tutti sono sempre motivati da una malsana sbagliata ricerca d'amore perché una ragazzina a 15 anni perde la virginità scusate se faccio un esempio brutale d'accordo perché il ragazzotto gli dice senti se tu mi ami mi devi dare questo qua tu mi dai questo io poi starò sempre con te ti farò felice a destra e a sinistra con questo capite non sto mica giustificando la fornicazione che commette la ragazzina capite però se uno va in fondo alle motivazioni profonde c'è sempre questo vissuto malamente vissuto disordinatamente perché oggi noi siamo un disastro ambulante che cammina ma c'è sempre questo cioè noi non possiamo tradire la nostra origine capite perché noi siamo fatti dall'amore e questa cosa per quanto l'ordine sia stravolto per quanto adesso sia tutto quanto complicato noi ce la portiamo dentro dice ma come Dio non è anche giustizia lo è però è una giustizia che bisogna sempre leggerla dentro il mistero dell'amore rifiutato capite quante volte stavo detto cioè la giustizia di Dio non è una giustizia vendicativa cioè non è una giustizia ah dunque poi vediamo un po' stavo detto non è fatto non è fatto botte da orvi mazzate non è così così quando si parla dei cosiddetti castighi di Dio ah l'hai fatta sulla terra allora ti mando una bella mazzata così può essere che la fai finita non è così non è non è questa non è che non esistono i castighi di Dio e non è che non esiste la giustizia di Dio ma bisogna leggerli correttamente correttamente dentro l'orizzonte di questa rivelazione della rivelazione del Dio come amore cioè non ci sta niente da fare capite e pensate cosa significa che il nostro progenitore ebbe un'epoca bellissime queste immagini che compiva a meraviglia lo scopo per cui fu creato e provò che significa vivere del volere del suo creatore provate a cominciare a vivere un po' nel regno della divina volontà capite provate adesso non dico che succede ma una percezione veramente nuova diversa cioè un'aria proprio nuova capite cioè un'aria che prima non l'avevi mai sentita io in parte l'ho vissuto questo qua non sto dentro queste robe qui al 100% carità di Dio ecco non so manco ne sono è come se uno apre la finestra non si è neanche affacciato d'accordo però appena ti affacci tu senti un'aria e dici e che succede qua lo avverchi capite e dici ma che doveva venire questa picca reta per sapere che Dio è amore no sta scritto nel Nuovo Testamento sta scritto nelle lettere di San Giovanni due volte lo dice proprio cioè San Giovanni era un po' briccone era un po' discolo perché se tu leggi San Tommaso di Dio non si può dare nessuna definizione perché Dio deve essere infinito è perfettissimo come fai a definirlo e invece San Giovanni l'ha definito perché la definizione si dà con soggetto copula e parte nominale soggetto e predicato Dio è amore l'ha definito cioè l'essenza di Dio è l'amore questo sta dicendo ma lo è non a chiacchiere capite e non in maniera stupida come fanno molti perché dopo capite un conto è l'amore un conto è la caricatura dell'amore perché per molti oggi anche quelli che travisano gli insegnamenti del Papa essere Dio amore significherebbe che Dio sta lì come una sorta di bonaccione sta sempre a sorridere qualunque cosa faccia cioè non gliene importa nemmeno niente del male che fai non può Dio non importargli niente del male che fai perché il male che tu fai è la negazione dell'amore ed è la tua distruzione capito perché come non gliene importa il male che fai gliene importa perché ti ama capite e non è amore che tu fai il male ma chi se ne importa ti preoccupa fanno ancora che tanto ti voglio bene lo stesso anche se attenzione Dio continua ad amare il peccatore capite ma un conto è capire che Dio continua ad amare il peccatore perché gli tende una mano per l'amore che ha fino alla fine per tirarlo fuori da qua per portarlo con sé un conto è dire che Dio ama il peccatore approvando quello che fa cosa che non sta fitto da nessuna parte che nessuno si è mai sognavo di dire e di pensare capite termino la lettura di questo scritto quindi i primi atti dell'uomo ci sono nella nostra volontà i primi compiuti e Dio qui Gesù si rivolge a Luisa non voglio altro da te se non che venga nel nostro volere per proseguire da dove Adamo smise per poter vincolare in te tutte le armonie che lui spezzò e come questa prima creatura essendo creato da noi come capo di tutta l'umana famiglia col sottrarsi al nostro volere portò l'infelicità a tutti questa è la dottrina della Chiesa la dottrina sul peccato originale così tu col venire a seguire da dove lui lasciò di vivere ti costituiamo audite audite capo di tutti quindi portatrice di quella felicità e beni che erano stati assegnati a tutti se solo fossero vissuti nel nostro volere volere quindi quando si parla di Luisa Piccarreta bisogna concepirla come la donna che ha conosciuto sul pianeta Terra cosa significa la felicità e se voi leggete non ve le dico in diretta almeno non oggi alcune grazie e doni che Gesù in persona gli ha fatto beh forse capirete qualche cosina capite? cose pazzesche bellissime meravigliose che chiunque le legge sfido chiunque che le legge a che non gli venga in mente pur non volendo fare l'invidia della grazia di Arturo se no faccia peccati controllo Spirito Santo magari sia una roba del genere cioè uno capite? queste cose se al giornale della Luce dice che le grazie mistiche non si possono desiderare in senso stretto però io c'è scherzo con il nostro signore io non le desidero le sogno posso sognare posso fare un sogno no? un sogno lo posso fare a sogna il sogno è per antonomasia qualcosa di irrealizzabile però te lo offro come sogno possiamo farlo no? che problema c'è? andate a vedere che roba questo è uno l'altro che volevo leggervi oggi vediamo ecco siamo molto vicini a civicchia alla conclusione non ce la farò a leggerlo tutto quanto va bene provo a leggerlo al limite poi riprendiamo dove ci siamo fermati perché è un pochino lungo che è il volume sedicesimo il 14 gennaio del 1924 eventualmente leggo un primo leggo qualche 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 battura insomma iniziale e poi ci fermiamo perché il tempo ci incombe quando si parla di queste cose il tempo vola dice una celebre canzone di Nadio Nerrici ecco figlia mia vuoi tu sapere la causa per cui fui spogliato quando fui flagellato st'attenta che in ogni mistero della mia passione prima mi occupavo di rinsaldare la rottura tra la volontà umana e la divina e poi alle offese che produce questa rottura qui cominciamo con questo scritto l'avevo scelto perché con questo cominciamo a introdurci perché penso che abbiamo abbastanza ben capito come stava Adamo prima della colpa d'origine tra la puntata precedente e quella di oggi adesso dobbiamo andare a vedere i disastri che sono successi veramente ci starebbe proprio da piangere da piangere nella divina volontà quindi con effetto desattivo la tradizione della chiesa ci racconta che Adam e Deo e del peccato religioso hanno fatto penitenza per tutta la vita e hanno pianto per tutta la vita ma non ci stanno lacrime e piangere una cosa del genere non ci stanno d'accordo non ci possono stare perché è veramente una tragedia ora l'uomo quando nell'Eden spezzò i vincoli dell'unione tra la volontà suprema e la sua si è spogliato della veste regale vi ricordate quando Gesù parla di quella veste con cui si entra in paradiso il libro dell'Apocalisse questi ciamuti quanti questa veste super qual è la veste regale? della mia volontà e si vestite i misericenci d'accordo pensate anche alla parabola del buon samaritano della sua debole incostante impotente a far nulla di bene siamo diventati da Rockefeller capito vestiti non lo so che cosa stilista vi piace? vi piace Armani vi piace Prada vi piace Dolce e Gabbà che vi piace di più? quelli che un paio di scarpe costano 700 euro vanno proprio in giro proprio a fa lo sfoggio gratuito del lusso più sfrenato ma non è paragonabile a come era l'uomo prima della colpa originale non è paragonabile a lo straccione miserabile barbone pezzente tipo quei poverini dei nostri fratelli poveri d'accordo ridotti cenci umani che troviamo nelle stazioni di Roma di Parigi di Londra i cosiddetti clochard d'accordo noi siamo tutti come clochard tutti quanti tutti siamo clochard però noi siamo stati altro che Berlusconi Trump Bill Gates chi sono gli uomini più ricchi del mondo quelli che se volessero scialerebbero che non sanno più un domenio se risorti non sanno che faccio noi siamo così siamo stati e potremmo tornare ad esserci la mia volontà era per lui un dolce incanto in cui lo tenevo assorbito in una luce purissima che non gli faceva conoscere altro che il suo Dio da cui era uscito il quale ascoltate bene non gli dava altro che felicità senza numero ed era tanto assorbito dal tanto dare che gli faceva il suo Dio che non si dava nessun pensiero di se stesso cercate di capire una cosa vi prego sapete che cosa faceva Damo non sapeva più a dove andasse a parare perché Dio in continuazione gli faceva qualche regalo nuovo gli dava qualche dritta nuovo gli dava qualche gesto d'amore nuovo non sapeva più non sapeva più un Dio girasse pensate un po' che bella vita che ti faccio oggi che sementerà oggi il Padre Eterno che grazia mi darà oggi che sussulto mi darà che estati mi darà questo era non è uno schiere è così il quale non gli dava altro che felicità senza numero ma capite che significa il paradiso terrestre ma cioè in paradiso noi che ci andiamo a fare vedete che in paradiso staremo tutto il giorno così cioè in continuazione sorpresi ricoperti da tutto quello che Dio ci donerà ma di stupendo di inimmaginabile in continuazione capite e Dio è infinito cioè l'eternità provate ad immaginarvi cioè capite questo non finirà mai e ora domani che si inventa e si inventa qualcosa stai tranquillo che se la inventa se la inventa stai tranquillo questo è quello che faceva Damo e piacerebbe trascorrere la vita così cioè che ho marzo la mattina e dico oggi che si inventano il tuo signore tu dici Don Leonardo forse è andato un periodo in riposo ieri notte ha bevuto un po' e ancora oggi sta sta smaltendo gli effetti no no non ho bevuto ho capito alcune cose e me le immagino e me le rendo conto ed era vedete ed era tanto assorbito dal tanto dare che gli faceva il suo dio assorbito cioè questo che non sapeva più avete visto quando uno immaginate che uno te prendono te prendono una banda di teppisti e te da tante di quelle botte che ti arrivano tutte le parti cioè te gonfia come la zampogna dicono a Roma calci pugni che tu te ritrovi gonfiato che te hai toccato la gragnola delle cose non sei andato a parare ecco cambiamo la prospettiva doni e grazie di dio non sapeva più non andassero a parare non sei dicendo fermate dammelo una volta che non ce la faccio più diceva così faceva così e guardate che la vita della madonna sulla terra è stata così la vita della madonna sulla terra è stata così solo che la madonna essendo venuta nel fiat redimente purtroppo non c'aveva solo questo il suo fiore e la rosa quindi insieme a questo c'aveva le spine che doveva offrire per la nostra retenzione e perché noi dopo la retenzione potessimo tornare a vivere come ha vissuto lei invece Adamo ce la beva senza spine capito ecco come sarà per noi per noi adesso prima che venga il regno della volontà sulla terra secondo me se ci entriamo sarà una bellezza infinita che non toglie le spine perché comunque anzi nella divina volontà dobbiamo fare tante penitenze dobbiamo riparare tanti peccati proprio per la forza che abbiamo in questo gesto e per accelerare la conversione dei peccatori e la salvezza del mondo però sarà comunque una cosa stupenda quindi io spero e ragazzi vi ripeto questa donna è una serva di Dio il processo di benificazione è in corso a queste cose ci si può credere o ci si può non credere d'accordo? è evidente che se uno non ci crede considera queste cose che sto dicendo come si bei sogni pi pensieri pi desideri eccetera eccetera chi ci crede no e le prende sul serio dice ma mi piacerebbe a me avere una vita felice simile a quella che c'è ad Adamo cioè cominciare a mettermi in condizione di fare il recipiente di tutto quello che Dio mi vorrebbe dare e che non mi può dare perché non sono attualmente disposto a riceverlo questo lo vedremo la prossima volta cioè l'uomo peccatore che vive lontano da Dio tra le cose negative che fa e così andatevi tutti a confessare pure io impedisce a Dio la gioia di poterci dare i doni tali da renderci felici cioè chiude i serbatoi del cielo e priva Dio della gioia perché lui questo vorrebbe di vedere i suoi figli felici capito state tranquilli che quando uno sta incavolato nero depresso triste arrabbiato state sicuri che quello non sta nella volontà di Dio nemmeno che certamente Dio non è affatto contento di vedere un simile spettacolo davanti ai suoi occhi vorrebbe vedere ben altro e se quella persona si trova così purtroppo in un modo o in un altro prossimo o remoto per i peccati suoi altrui quello che pare state tranquilli che la colpa è di tutti meno che del padre eterno bene detto questo dobbiamo chiudere perché veramente il tempo a nostra disposizione è finito e vi do appuntamento alla prossima settimana a tutti ave Maria